La verità sul ragno violino, pericolo nascosto. Benvenuti al nostro video. Oggi parleremo di un aracnide affascinante ma pericoloso, il ragno violino. Questo piccolo ma potente ragno è noto per la sua capacità di causare gravi problemi di salute con un solo morso. Sapevate che un morso di questo ragno può causare sintomi debilitanti? Molti ignorano i rischi associati a questo aracnide. Oggi faremo luce sulle sue caratteristiche, il suo habitat e come prevenirne gli incontri. Il ragno violino, scientificamente chiamato Loxosceles reclusa, è facilmente riconoscibile grazie alla sua distintiva forma a violino sul carapace. Questa caratteristica unica lo rende un soggetto interessante ma anche temuto. Di colorazione marrone, chiaro o dorata, il ragno violino si mimetizza facilmente nell'ambiente circostante. Questo lo rende difficile da individuare e aumenta il rischio di incontri accidentali, soprattutto in ambienti domestici. Il ragno violino è più comune negli Stati Uniti meridionali e centrali, ma è stato segnalato anche in altre parti del mondo. La sua capacità di adattarsi a diversi ambienti contribuisce alla sua ampia diffusione geografica. Il ragno violino predilige ambienti bui e asciutti, come cantine, garage e legnaie. Si annida spesso negli interstizi delle abitazioni, trovando rifugio in spazi ristretti e poco frequentati. Questi nascondigli offrono sicurezza e tranquillità al ragno. Essendo un aracnide solitario e timido, il ragno violino tende a evitare il contatto con l'uomo. Non è aggressivo e morde solo se si sente minacciato o intrappolato. La sua natura schiva lo rende difficile da individuare. Il ragno violino è attivo prevalentemente di notte, quando esce per cacciare piccole prede. La sua attività notturna contribuisce a mantenerlo nascosto durante il giorno, riducendo ulteriormente le possibilità di incontri accidentali con gli esseri umani. Il morso del ragno violino può essere molto pericoloso a causa del potente veleno che inietta. Anche se spesso non è immediatamente doloroso, il veleno può causare danni significativi ai tessuti circostanti, rendendo necessario un intervento medico tempestivo. I sintomi di un morso di ragno violino includono dolore intenso, gonfiore e necrosi del tessuto intorno alla zona del morso. In rari casi, il veleno può provocare sintomi sistemici come febbre, brividi e nausea, rendendo ancora più urgente il trattamento. Il veleno del ragno violino può provocare sintomi sistemici in alcuni casi rari. Oltre ai sintomi locali come il dolore intenso e la necrosi del tessuto, possono manifestarsi febbre, brividi e nausea, richiedendo un'attenzione medica immediata. Per trattare un morso di ragno violino è essenziale cercare assistenza medica senza indugio. Un intervento tempestivo può prevenire complicazioni gravi e migliorare significativamente le possibilità di una completa guarigione. Prevenire un incontro con il ragno violino è possibile adottando alcuni accorgimenti. Mantenere una buona igiene degli spazi abitativi e lavorativi può ridurre il rischio di ospitare questi aracnidi pericolosi. Un ambiente ben curato e privo di crepe o fessure offre meno rifugi ai ragni violino. Sigillare le crepe nelle pareti e nei pavimenti e mantenere pulite le aree di stoccaggio sono misure efficaci. Le trappole adesive rappresentano un metodo utile per monitorare e controllare la presenza di ragni violino. Posizionate strategicamente, queste trappole possono fornire un'indicazione chiara sulla necessità di ulteriori interventi di controllo. Indossare guanti e maniche lunghe quando si lavora in aree potenzialmente infestate è una misura semplice ma efficace. Questo riduce significativamente il rischio di entrare in contatto diretto con il ragno violino, proteggendo la pelle da eventuali morsi. Ispezionare attentamente scatole, scarpe e vestiti prima dell'uso è fondamentale, soprattutto se conservati in luoghi bui. Questa pratica aiuta a individuare eventuali ragni nascosti, evitando spiacevoli sorprese e potenziali rischi per la salute. Ridurre i nascondigli come pile di legna o detriti intorno alla casa è un'ottima strategia. Eliminando questi rifugi si diminuisce la probabilità che il ragno violino trovi un ambiente favorevole dove nascondersi e proliferare. Insetticidi specifici possono essere utilizzati come misura preventiva per tenere lontani i ragni violino. Applicare questi prodotti in aree strategiche aiuta a creare una barriera protettiva, riducendo il rischio di infestazioni e morsi accidentali. Educare se stessi e la propria famiglia sui rischi del ragno violino è essenziale. La conoscenza delle caratteristiche e dei comportamenti di questo aracnide può fare la differenza, promuovendo pratiche preventive e aumentando la consapevolezza dei pericoli. In sintesi, il ragno violino è un piccolo ma potente aracnide che merita rispetto e cautela. Conoscere le sue caratteristiche e comportamenti è essenziale per prevenire incontri pericolosi e proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e condividi con i tuoi amici per diffondere la consapevolezza. Insieme possiamo imparare a convivere in sicurezza con questo affascinante ma insidioso abitante del nostro ambiente. Grazie per aver guardato il video. A presto con altrettanti nuovi contenuti.